bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziari della settimana che è appena passata questa è la rubrica per chi vuole tenersi informato su investimenti finanza e mercati finanziari questa è buonanotte mercati e siamo alla quarta settimana del 2022 ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati su io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto e come ogni lunedì buonanotte mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che è appena passata parliamo di mercati economia finanza e notizie importanti che possono avere un impatto sugli investimenti e sulla nostra vita sociale ne parliamo come sempre in maniera distaccata dando numeri e non sensazioni cominciamo subito tra le notizie più importanti della settimana che è appena passata sicuramente c'è il fatto che se quella di cui stiamo parlando fosse una serie netflix sarebbe vista molto probabilmente come improponibile e poco vicina alla realtà ma invece tutta realtà il gigante della tv a piacimento netflix ha visto le sue azioni scendere del 21 per cento nella giornata di venerdì 21 21 21 buttata giù non da una cattiva trimestrale ma delle previsioni pessime fatte dal management che sente il fiato sul collo della concorrenza questo ha portato anche giù tutto il nasdaq ma poi ne parleremo successivamente quando ci andiamo ad approcciare sugli indici seconda notizia microsoft compra tutto e si butta su activision blizzard la nota azienda dei videogiochi da tempo in acque non proprio esaltanti in un'operazione che a memoria d'uomo risulta essere la più grande mai realizzata nell'ambito dei videogiochi 68,7 miliardi di dollari cosa questo è il prezzo che microsoft ha messo sul piatto per tutti i francisi e gli studios di realizzazione di activision blizzard pagando 95 dollari ad azione nel catalogo entrano call of duty overwatch warcraft secondo me stanno ancora stappando le bottiglie di champagne in activision blizzard ora sony nintendo potrebbero e anzi dovrebbero cominciare a tremare perché con questa mossa sicuramente microsoft vuole destabilizzare il mercato dei videogiochi prendendosi una fetta sempre più ampia shopify inc è precipitata da marzo 2020 a causa di un rapporto secondo cui le società di e-commerce canadese ha risolto diversi contratti con diversi partner di magazzino e di adempimento le sue azioni quotate sulla borsa degli stati uniti d'america venerdì hanno chiuso in un ribasso del 14 per cento in meno quello che il livello più basso da settembre 2020 a causa di un volume di scambio elevato dopo che un rapporto di insider ha affermato appunto che shopify avrebbe dovuto avere circa la metà della sua precedente capacità di ordini di e-commerce per i commercianti una volta che queste modifiche fossero state implementate il rapporto cita i dirigenti di quattro società di evasione ordini nella rete di shopify in mezzo a un'ampia vendita di titoli tecnologici alla fine dello scorso anno shopify è stata detronizzata come l'azienda più preziosa del canada ora infatti è la terza società pubblica canadese ovviamente per valore di mercato dietro a due società bancarie andiamo a parlare invece di numeri di indici e partiamo come sempre dagli indici americani che hanno sicuramente chiuso una settimana difficile non so ma non si vedevano simili ribassi dagli inizi della pandemia il nasdaq ha lasciato sul terreno assieme al russell 2000 le peggiori perdite entrambi gli indici sono andati vicini almeno 7,6 per cento e titoli come netflix hanno portato giù tutto ma non è l'unico motivo anche gli indici industriali e per cui il dow jones ci hanno lasciato quasi un meno 4,6 per cento mentre l'indice regina del mercato americano lo standard arsempur 500 arriva a un meno 5,7 per cento settimana non certo ideale per chi era appena entrato al mercato quasi tutti i listini mondiali hanno lasciato molti miliardi per la strada l'rtsi russo un meno 5,76 per cento e il vig 20 polacco che tante soddisfazioni aveva dato nelle scorse settimane perde un meno 4 6 per cento l'unico che ci ha guadagnato e bene è per chi aveva il vix in portafoglio l'indice della volatilità ha restituito un più 50 per cento abbondante questa settimana a livello mondiale comunque non tutto è perso la 50 cinese ha dato un più 2 64 per cento come langseng un più 2 e 40 per cento anche i brasilia e arabia saudita ed india hanno dato rendimenti positivi su base settimanale ma comunque sono rendimenti molto minimi molto bassi l'euro stock 50 ha tenuto bene lasciando sul terreno solo un meno 0,50 per cento per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense qualcosa sembra essersi salvato non si può certo definire i settori meglio performanti ma a mio parere quelli che se la sono passata un po meglio in particolare gli household products con un più 1 e 40 per cento poi oil and gases e anche energy services entrambi con un più 0 40 per cento gli altri settori sono tutto un bagno di sangue dove il settore del divertimento il leisure in inglese perde un meno 10 60 per cento poi a catena vicino a un meno 10 sono i componenti per l'automotive automotive components i beni durevoli e di personal products leggermente meno peggio se così si può definire invece sono i semiconduttori che vanno a chiudere la settimana con un meno 8 e 40 per cento andiamo invece a parlare di cripto valute l'ultima settimana che ha vaporizzato i guadagni della scorsa settimana e che allontana sempre di più la percezione che le cripto siano la cosiddetta manna dal cielo che salverà il mercato ci salverà dall'inflazione ci salverà punto e basta a venerdì 21 data in cui stavo preparando lo script il bitcoin perdeva su base settimanale quasi un meno 16 per cento e detirium faceva anche peggio con un meno 22 per cento anche il token di binance bnb lasciava un meno 20 per cento abbondante di rosso nessuna cripto fra le prima 180 per capitalizzazione aveva un colore verde di segno positivo o comunque che facesse pensare dei ritorni positivi una carneficina monetaria per quanto riguarda il total crypto index incluso il bitcoin che si fermava poco meno del meno 20 per cento su base settimanale bene bene eccoci arrivati anche alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati e delle notizie finanziarie per quanto riguardava la scorsa settimana una settimana che è stato sangue e sudore nell'arena spero che come sempre questo contenuto di aggiornamento sia apprezzato e di gradimento e se così fosse per favore fammelo sapere lasciandomi un bel pollice in su e anche dei commenti per farmi capire che appunto che sono di tuo gradimento inoltre se sei nuovo sul canale ti chiedo come sempre la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo buonanotte mercati torna la settimana prossima come ogni lunedì e invece noi ci vediamo domani con un nuovo video anche per oggi è tutto ciao iscriviti al canale